Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video e commentiamo la finale di Champions League ragazzi io dico soltanto un nome, anzi ne dico due questa finale è stata segnata da Bale e da Karius partiamo dal secondo ragazzi, porca puttana che scarso, madonna e adesso mi avete fatto notare voi, soprattutto nello scorso video che dicevate tutti che Karius è una pippa e io dicevo ma come Karius, Karius e mi sono praticamente confuso proprio sul nome perché era Mignolet quello che intendevo e non Karius ovviamente sono calciatori che non ho visto benissimo però ovviamente intendevo Mignolet perché volevo puntare più sull'esperienza come vede l'ho dato anche dai due portieri ma Karius veramente ragazzi una merda, madonna santa, peggio di Donna Rumma altro che Paverumma, assurdo assurdo e niente poi ragazzi Bale, arriva Bale, entra nel secondo tempo e combina l'ira di Dio ha fatto, secondo me è stata forse più difficile di quella di Cristiano Ronaldo anche se il portiere faceva un po' cagare ma la dinamica dell'azione mi porta a dire che forse era un po' più difficile di quella di Cristiano Ronaldo e niente poi che dire, Salah purtroppo si è infortunato secondo me la partita avrebbe perso una piega diversa ovviamente Mané solo non è riuscito a fare un cazzo ma con l'altra fascia secondo me i tersini della Real Madrid avrebbero avuto difficoltà a tenerli Marsello un'altra partita strepitosa questo è il tersino più forte del mondo ragazzi c'è poco da fare è un animale come dribbla, come contro la palla e poi quell'altra pavera di... ah quanto tu sogna Mané quell'altra pavera di Karius sul tiro da fuori aria madonna santa che schifo ma perché poi su Benzema oddio non faccio altro che pensare all'errore che ho fatto anche io su quel video madonna santa niente ragazzi non sono molto contento perché ovviamente vedere una squadra vincere per tre anni di fila rote un po' il culo si parlava di Florentino Perez che voleva cambiare addirittura il tridente d'attacco perché inizialmente in campionato andava un po' male sì cambiare il tridente d'attacco questi sono mostri ragazzi secondo me lo fanno apposta data una certa età che ormai hanno raggiunto cercano di risparmiarsi un po' in campionato e fare bene poi in Champions se si è visto quindi Real Madrid è campione per la terza volta di fila complimenti all'oro e complimenti a Karius che ha rovinato la festa a tutti gli inglesi il video finisce qui ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale commentate vi ringrazio per tutte le visualizzazioni mi piace che mi avete concesso per lo scorso video grazie grazie di cuore ragazzi credo che a cadenza settimanale quindi ogni martedì andrò a pubblicare appunto il mio mercato di quasi tutte le squadre di serie A qui da adesso è veramente tutto ciao da Zcloud